La classe quinta A e quinta B di Tezze vi presenta l'esperimento dell'osso spezzato. Procuratevi per l'esperimento un osso crudo di pollo, un accendino o una fiamma. Prendete l'osso e con l'accendino bruciatelo. Quando avrete bruciato l'osso potrete spezzarlo facilmente. Ecco l'osso alla fine dell'esperimento. Si è spezzato perché il fuoco ha bruciato l'osseina che rende l'osso elastico. Nell'osso sono rimasti solo i sali minerali che danno durezza, quindi l'osso senza l'osseina si è spezzato. Provate anche voi!